E infatti lo dico sempre anche ai miei collaboratori, mi sa che davvero hanno ragione quando dicono che io sono troppo elcio per governare un paese moderno, però ho il metodo di sfruttare le conoscenze degli altri e di capire che dove non arrivo io devono farsi avanti coloro che le conoscenze le hanno davvero. Grazie